La notte scorsa tra mezzanotte e luna un incendio doloso ha distrutto due autovetture in dotazione alla Polizia Municipale di Campobello di Mazzara. Il fuoco è stato appiccato a due Fiat Tipo, una utilizzata come autovettura di rappresentanza e l'altra immatricolata per servizi di Polizia Municipale. Le due autovetture erano parcheggiate davanti al Palazzo Municipale di Campobello. Il presunto autore del rogo sarebbe stato già individuato, sarebbe un giovane di Mazzara che per motivi ancora in corso di accertamento ha appiccato il fuoco alle due vetture. Mentre le due Fiat Tipo bruciavano si è fermata sul posto un'autopattuglia di una società di vigilanza privata che ha individuato l'uomo e ha subito chiamato i carabinieri. L'indiziato, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero.